Ciao a tutti e benvenuti in Tessila News. Quest'oggi il protagonista, lo dice la parola stessa, è il re della lucentezza. Infatti analizzeremo il King Lux, una fettuccia lurex davvero unica nel suo genere, in quanto vi consentirà di donare lucentezza alle vostre creazioni in-made, ma sempre assicurandovi il comfort durante la lavorazione. Analizziamolo nel dettaglio. Partiamo analizzando nella composizione. È composta infatti dall'80% di viscosa e il 20% di fibra metallica, che rende appunto molto brillante e luminosa il King Lux e si presenta in rocca da 250 grammi per circa 500 metri e per cui è consigliabile l'utilizzo di ferri 6-8 e di uncinetto 5-7. Questa è la variante orzo con dettagli luminosi in oro, ma vediamola anche nelle altre varianti. Eccolo nella variante cipria con dettagli lurex oro, corallo oro e ruggine. Vediamola adesso in una variante diversa, dove gli inserti lurex si presentano in argento, quindi abbiamo grigio-argento, ghiaccio-argento e nero. Infine analizziamolo nella variante accesa del blu, per poi passare ad un bellissimo beige oro e acqua marina. Davvero stupendi! Il King Lux! Come avete visto, il King Lux presenta al suo interno della viscosa e quindi questo la rende facilissima da lavorare sia all'uncinetto che ai ferri e con questa presenza di fibra metallica molto luminosa sarà possibile ottenere delle creazioni handmade davvero molto eleganti. Infatti possiamo prendere proprio spunto dalla Fata Tuttofare. Lei utilizza il King Lux per realizzare un gilet, il gilet silver chic, dove la particolarità è questo accessorio che utilizza come chiusura, quindi dà una forma di fiore con una chiusura realizzata con la spilla coppetta, in modo tale da ottenere un dettaglio in più rispetto al semplice abbigliamento. Infatti è possibile realizzare anche pochette, borse e tutto quello che la fantasia vi suggerisce. Un altro esempio, quindi un'altra ispirazione, possiamo prenderla sempre dalla Fata Tuttofare con la creazione della sua maglia acqua marina, quindi una maglia traforata davvero molto semplice, grazie alla quale anche al di sopra di un outfit in tinta unita, che sia bianco o nero, viene data questa particolarità e quindi questo tocco di luce e di eleganza, che senz'altro non passerà inosservato. Quindi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanella e io vi ringrazio per averci seguito. Ciao! Ciao!